Tutto pronto comincia la seconda frazione Quadrato Quadrato e gli dice di no Il pallonetto telefonato Messi Si Messi è qua vedi La d'esperienza ragazzi Messi Il pallone d'oro Strasoca Touré Bella la verticalizzazione E c'è il tiro Buona l'intenzione Ma conclusione l'aria Fin qui ti è piaciuto? Riguain il pipita Stefano Se la sua squadra è in vantaggio lo deve soprattutto a lui Ne ha fatti due nella prima metà di gara e punterà almeno la tripoletta nella ripresa Bravo 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 Bella falla Sto lasciando un po' a desiderare Sfuma l'occasione Bella quella Regala la rimessa laterale agli avversi Quadrato Straordinario intervento vale come un gol Un intervento prodigioso Prodigioso Se riparte col calcio all'angolo Troppo sul portiere questo calcio all'angolo Buono intervento Vinto Vinto Borca Valero A spazio Bravo Borca Valero Borca Valero Un vantaggio che a questo punto sta diventando imbarazzante Mi chiedo se a questo punto decideranno di abbassare il ritmo per risparmiare le forze O se continueranno a spingere La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione I giocatori in campo si trovano davvero bene E' merito dell'intesa, delle loro qualità Anche delle scelte però assolutamente oculate E' vero Ottimo il lavoro del mister Ha saputo creare la coesione giusta tra i vari componenti della rosa E i risultati effettivamente gli danno ragione Porca messa Yaya Touré Si vieni Palla che esce Touche Rimessa laterale L'ottuce Entra in modo perfetto Varano 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 E c'è un cambio in arrivo per la squadra ospite Si c'è bisogno di energia, di forze fresche Credo sia il momento giusto questo A metri a disposizione Trova ad andare A cercare una tripletta Ora qui senza successo Il tocco a cercare Iguain Ha provato l'anticipo sui difensori Ma c'è la posizione di off-line L'allenatore ha preferito andare sul sicuro Ha preso in rosa molti giocatori che vengono dallo stesso paese Per migliorare l'intesa Questa è una cosa saggia Parlare la stessa lingua aiuta ad integrarsi molto meglio E gettare le basi per una solida intesa Ma ragazzi Palla che termina fuori Si starà la rimessa da parte del portiere Le dovete rilasciare Casa Messi Qui si becca ragazzi Ma appartice Zunica Zunica oggi non fa passare niente Occhio al movimento dei compagni Occhio al contrasto Senza problemi qui per la difesa Cristiano Ronaldo Quadrato Quadrato Prova a sorprenderlo E' il Pipita Tre volte il Pipita Che partita Tre gol E nessuna voglia di fermarsi Sì Mi scupirei se arrivasse anche il quarto Con questa rete aumentano ulteriormente il proprio vantaggio E a questo punto la partita Cristiano Ronaldo Un altro ottimo tocco L'Ambra Supera facilmente il difensore Facilmente rifagliamolo E L'amico ragazzi Insigne Varam Di potenza Insigne Bello Il pallone è uscito Sarà rimessa Iaiature Messi Ruba palla bene sulla fascia Lewandowski Palla allontanata Sembra aver perso lucidità Borca Valeri Iaiature Marchisio Gioca nel giorno del suo compleanno Auguri ovviamente Cerca la porta Iguain La conclusione è certamente La nuova altezza Di quelle viste in precedenza Iguain Borca Valeri Grattino Grattissimo Noyer Si aggiusta il pallone Tutto pronto per il corner Varan Spazza via lui La balanga La balanga Guarda un sfide che sta per effettuare un cambio Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari Cristiano Ronaldo Occhio alle sovrapposizioni Ecco il tiro Tutta la sua rabbia per l'occasione mancata Anch'io sarei molto arrabbiato Abbastanza comprensibile Il quarto uomo indica tre minuti di recupero Marchisio Buono il recupero Possono ricominciare Occhio al traversone Buono il contrasto Recupera il pallone Felipe Anderson Insigne Buono il pallone Fuori di poco E sarebbe stato un gol fantastico Buono il pallone Per l'attività La partita Spezzato bene qui Giorno 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 Eccoci qua In questa partita Infatti adesso andiamo Lo spostamento Tanto atteso Dai Di qua Giorno 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 Ma è questa roba Samari Sì Il sumaro Questo è tutto roba da schifo Adesso Non si è vana cosa Adesso Adesso Mi sta fuori La costita Adesso 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 Questa l'italia del mare va accanto all'argentino stava facendo gioire adesso si vende a sud e si vede a me la di questo percorso se qui riuscivano a viaggiare così si vede a 500 ma nemmo ragazzi che amarezza 500 anche noi 500 anche questo metto dai 20 miliardi di dollari per quello c'è tutto per questo video è finito con la grande vittoria del team prossimamente cerchiamo di fare altri match di magic altri match di fifa giustamente vediamo se la serie a ci riserva nel calcio mercato infernale qualche buon acquisto e compriamo subito e vi consiglieremo altri giocatori restate sempre con noi seguite il canale e a presto con gli ultimi video di fritz tube ciao a tutti